Gran Galà della Musica Lirica Lirico del Teatro di Pietra, venerdì 11 settembre alle mura Timuleontei di Gela, prevendita presso Radio Gela Express 389 4859 315, ticket one e tabaccheria PP, special price 10 euro posto unico. Gela Opera Concert, Gran Galà Lirico voluto dall'amministrazione comunale di Gela, assessore Cristian Malluzzo e dal direttore del parco archeologico di Gela Luigi Gattuso.